...l'affarello di mano, poi la squadra di Pia. Vedete pure? Ci usciamo qui insieme. Intanto le manette qui che facciamo con la foto insieme. Poi passiamo su, è meglio di 5 anni, di fiori. Ok. Poi abbiamo Basilico Dalliere Castigliori Sapa, di 5 anni. Poi Marco Anja, Matteo e Sardegna Rauta. Da un attimo inizio, restiamo in calma. Poi abbiamo due e quattro inizio, l'Italia Angelo, ci mettiamo in vita. Sardegna, di ricordi come per colore a Roma e la mcia. La linde, la lì, la lì. Quantodad? Quanti al mondo? Quanta. Lì, io sono una famiglia. Se non mi fiume, un po' di tolende. Sì. Poi 5 tesi, Basilico, Giovanni e Maria. Poi abbiamo la bella Pietro, Franco e Giuliana. Sono scivattenti. Franco, l'andata deve andare al pazzesco. E' bella come tira. Siete sotto l'anca, pagami la mia. Siamo arrivati in un vero faminto. Andiamo, dai. E poi lo prendiamo. E poi? Non può fare il piso. E poi abbiamo il 55esimo. Sassi, Sergio e Sassi. Sassi, Roberto, giusto? Sì? Quattro. E poi abbiamo il 55esimo. Un po' un applauso. Grazie. Grazie.